Magari i primi mesi del lockdown, quindi da febbraio a maggio più o meno, è stato meno pesante perché magari è stata la prima volta così, però da settembre poi no, è stato molto più pesante, un po' più difficile. Finalmente ora si cambia, almeno per il 50% delle attività scolastiche. All'Istituto Orseghetti la metà delle classi sono vuote, con i professori che continuano a distanza, l'altra metà agli studenti felicemente in presenza. È previsto il doppio turno per l'arrivo, 7.30 e 9.30, uscita pure scaglionata e soddisfazione di studenti e professori. Questi mesi sono stati di sicuro abbastanza difficili per quanto riguarda i rapporti che c'erano tra compagni perché non ci siamo visti per tanti mesi. L'unica cosa è stato bello rivedersi in classe finalmente dopo tanti mesi, anche se con le dovute distanze, le mascherine, però di sicuro è stato piacevole. Lunedì con la ripresa delle lezioni abbiamo visto i ragazzi con la voglia di stare in classe, con la voglia di rivedersi, di parlare, di socializzare. Noi professori entrando in classe abbiamo avuto una vitalità in più perché avere dei ragazzi in presenza e fare lezione con loro è tutta un'altra cosa dall'aula vuota e da fare lezioni davanti a uno schermo. Le superiori di secondo grado dell'istituto danno istruzione a quasi 400 studenti, suddivisi in tre indirizzi, istituto tecnico, in relazioni internazionali e marketing, liceo scientifico sportivo e liceo in scienze umane, economico e sociali. Anche il preside Pavoni sottolinea l'importanza del ritorno in classe. Se è vero che per ogni esperienza bisogna imparare qualcosa, si può imparare qualcosa, da qua se portassimo a casa l'idea che la scuola non è solo istruzione ma fonda la sua essenza anche nella relazione, relazione educativa, ecco io mi auguro che questo tempo di distanza abbia fatto nascere il desiderio di stare insieme. Allora la scuola diventa veramente quello che è, cioè incontro, relazione, ritmi e anche riti. Recentemente l'istituto Seghetti è stato sede di una ricorrenza importante alla presenza delle cariche istituzionali per i 70 anni dalla nascita dell'Università di Verona, ospitata all'inizio proprio in queste aule. Questa è stata la prima aula dell'università, iniziata il 29 gennaio del 51, con la collaborazione di un sacerdote, Monsignor Grazioli. L'istituto ha dato lo spazio, la madre Angela Peretti che era la superiore della casa, ha detto noi possiamo darvi questo spazio dopo le 4 e mezzo, le 16 e 30 del pomeriggio perché veniva usata anche come aula di disegno e quindi dalle 16 e 30 alle 18 e 30 facevano due ore di lezione.